36 anni fa a Palermo la mafia uccideva il generale dalla Chiesa con la moglie e la gente di scorta Domenico Russo. Un sacrificio scrive nel suo messaggio Mattarella dal quale le istituzioni e la società devono trarre energia e determinazione per riaffermare i valori della convivenza democratica. Dalla Chiesa, dichiara la Presidente del Senato Casellati, ha un esempio da seguire per chi lotta contro la mafia. E per il Presidente della Camera FICO la sua morte fu un gravissimo colpo allo Stato. Un ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa con Walter Vecelio. Una sobria corona deposta sul luogo del delitto, il silenzio suonato dalla tomba di un carabiniere. Così viene ricordato il sacrificio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso 36 anni fa dalla mafia, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. Prefetto per appena 100 giorni, il generale è già una presenza intollerabile per i boss della Cosa Nostra. Per 100 giorni invoca quei poteri promessi che Roma non gli concede. Nel suo diario scrive, sto per diventare un'altra volta strumento di una politica che fa acqua da tutte le parti. Quando lo uccidono, i mafiosi in carcere brindano, forse non solo loro. Il generale arriva in una Palermo sconvolta da una quantità di delitti eccellenti. Il vice segretario provinciale della democrazia cristiana Reina, il vice questore Giuliano, il giudice Terranova, il presidente della regione Mattarella, il capitano dei carabinieri Basile, il procuratore di Palermo Costa, il segretario del partito comunista regionale La Torre. E' già un mito. Se le Brigate Rosse sono sconfitte, lo si deve anche a lui e al pugno di uomini che in lui crede ciecamente. In Sicilia c'è stato da giovane comandante dei carabinieri di Palermo nel 1948, poi nel 1966. Un giorno un suo capitano è minacciato. Il generale lo prende sotto braccio. Passeggiano lentamente lungo il corso principale. Fa così capire che quel capitano non è solo. Anche il generale chiedeva che qualcuno lo prendesse sotto braccio, passeggiasse con lui. Lasciato solo, la cosa nostra lo uccide. L'ultimo suo gesto? Fare da scudo con il suo corpo alla giovane moglie, sposata due mesi prima.